con questo tutorial come utilizzare scratch per giocare con la geometria giocare con i gradi, le angolazioni, le figure geometriche prepariamo l'ambiente come al solito tolgo il gatto e aggiungo una matita per quanto riguarda la matita la posizioniamo a 0,0 in questo momento e andiamo in ho messo semplicemente 0,0 nelle coordinate x,y perché poi voglio andare su costumi e fare in modo che il centro del nostro sprite cioè la matita che in questo momento è proprio all'interno del manico sia sulla punta per fare questo utilizzo lo strumento freccia quindi di selezione seleziono tutta la matita trascinando e a questo punto sposto la matita fin tanto che mi va vado a mettere la punta della matita proprio sul mirino centrale del nostro piano di lavoro del costume della matita ok se facciamo in questo modo vedete che adesso a questo punto la matita è più spostata verso l'alto cosa che è avvenuta anche nello stage faccio anche la stessa cosa sul costume 2 per farvi vedere cosa ho fatto faccio uno zoom per vedere meglio un po' troppo torno indietro un pochino ok seleziono la matita la sposto vedete che lì c'è quella crocetta sposto in modo tale di andare in questo modo sul centro eccolo lì e quindi poi voi potrete usare uno o l'altro quello che preferite come costume a questo punto mettiamo uno sfondo lo sfondo che metto è l'X grid 20 pixel tale da avere una quadrettatura ok ultima cosa torniamo in codice aggiungiamo i blocchi penna che ci serviranno poi per disegnare mentre la matita si muove e siamo a posto bene adesso cosa facciamo partiamo con il nostro codice allora come prima cosa i primi blocchi bandierina verde un po' lo zoom così magari potete vedere meglio ok bandierina verde poi da penna prendo porta colore penna in modo tale da iniziare a scrivere sempre con lo stesso colore io scelgo il colore rosso dopodiché utilizziamo il porta dimensione penna e lo cambio il valore da 1 a 10 in modo tale da avere uno spessore della linea un po' più spesso e quindi vado a dire la posizione iniziale della nostra matita che sarà vai a x meno 60 e y meno 60 ok se andiamo a vederlo cosa succede la matita si posizionerà a come vedete in questo punto noi andremo a costruire le figure almeno le prime con un lato lungo 120 punti quindi praticamente 6 quadretti ok adesso partiamo con la parte del vero e proprio disegno questa era la predisposizione del nostro codice il fatto che quando premiamo la bandierina verde la matita parta il tutto è il nostro evento iniziale subito dopo viene impostato il colore rosso e la dimensione della penna 10 e va a posizionarsi alla posizione meno 60 meno 60 su x e su y a questo punto partiamo con i blocchi che realmente porteranno alla scrittura al disegno della figura partiamo con una figura semplicissima che vi consiglio di utilizzare è il quadrato torniamo in penna e prendiamo il blocco penna giù a questo punto andiamo in controllo prendiamo ripeti dobbiamo disegnare un quadrato il quadrato ha 4 lati quindi andremo a ripetere 4 volte cosa? andremo a ripetere 4 volte il movimento fa i 10 passi come dicevamo andremo a fare dei lati lunghi 120 punti disegnato il lato quindi partendo da questa posizione meno 60 meno 60 andrà in questa posizione e quindi dovrà girarsi per andare verso l'alto e allora prendiamo gi ruota a sinistra e gli diamo un'angolazione di 90 gradi fatto questo possiamo tornare in penna e utilizzare il penna su un piccolo consiglio utilizzate il penna giù e il penna su subito a ridosso dei blocchi che andranno a fare il movimento utilizzare il penna giù all'inizio può portare a piccoli punti scrabocchi all'interno dello stage e anche il penna su è comodo perché se vi dimenticate di mettere la penna su cosa succede? nelle varie fasi di movimento tra un disegno e l'altro possono tracciarsi delle linee che magari non si volevano proviamo ed ecco il nostro quadrato bene facciamo una piccola modifica per vedere il nostro quadrato mentre proprio vedete che uno se facciamo ripartire la matita vediamo si che si muove ma c'è già il quadrato sotto quindi non succede nulla quindi converrà a pulire seconda cosa rallentiamo un po' l'esecuzione per fare questo partiamo dal rallentamento prendiamo da controllo attendi uno secondi e lo posizioniamo in questo modo ok può essere messo anche in mezzo tra i due blocchi non cambia e vediamo che in questo modo la matita viene rallentata seconda cosa che farei è andare in penna e prendiamo un bel pulisci e lo mettiamo all'inizio del nostro codice se adesso proviamo vedete che abbiamo tutto il tempo di vedere il nostro quadrato un'ultimissima cosa mettiamo anche un blocco anzi mettiamo due cose che possono essere interessanti dal movimento prendiamo punta in direzione 90 in modo tale che la matita vada sempre verso destra e aggiungiamo anche un blocco lo mettiamo qui lo stesso dove c'è scritto sinistra destra non ruotare può ruotare lasciamo il non ruotare e vedete cosa succede la matita rimane fissa sul suo lato così per ottenere un effetto un po' particolare bene abbiamo disegnato un quadrato se volessimo disegnare un triangolo cosa facciamo beh allora per disegnare un triangolo dobbiamo cambiare i gradi e le ripetizioni allora sicuramente avevate già capito che questo andava cambiato da 4 a 3 in modo tale da avere un triangolo e i passi possiamo lasciarli così come sono la rotazione invece dobbiamo cambiarla probabilmente sarete spinti a scrivere 60 gradi perché sappiamo che dalle nostre nozioni di geometria piana l'angolo interno del triangolo equilatero è 60 se io provo a premere vedete cosa succede ecco qui il 60 gradi che noi abbiamo dato in realtà non è questo interno ma è quello esterno effettivamente noi dobbiamo pensare che la matita parte da un piano 180 gradi quindi e poi deve ruotare la rotazione quindi che dobbiamo dargli non sarà quella interna ma dobbiamo dirgli qual è la rotazione esterna la cosa è abbastanza semplice noi dobbiamo dai 180 gradi raggiungere i 60 gradi interni quindi facciamo 180 meno 60 è 120 proviamo di nuovo ed ecco il nostro triangolo bene se volessimo adesso lavorare con altre figure come abbiamo capito dobbiamo andare a cambiare le ripetizioni e i gradi per fare questo ad esempio se noi vogliamo fare il pentagono scriviamo 5 quanti gradi interni deve avere il pentagono qui ci viene in aiuto la geometria piana noi sappiamo che in un pentagono la somma degli angoli interni è 540 diviso 5 ci darà 108 quindi 180 angolo piano meno 108 che è l'angolo interno sappiamo che dobbiamo scrivere 72 certo questo procedimento non è proprio semplice da ricordare dobbiamo ogni volta ricordarci quanto è la somma di ogni figura interna in realtà esiste un trucchetto molto semplice allora vi faccio rivedere abbiamo scritto prima 4 e 90 ok 4 per 90 è 360 gradi se noi scriviamo 3 per 120 che era il triangolo quello che abbiamo disegnato 3 per 120 è sempre 360 se scriviamo 5 e lo moltiplichiamo per i 72 gradi che abbiamo detto prima otteniamo sempre i 360 quindi per costruire le nostre figure geometriche ci basta anche semplicemente sapere che possiamo dividere l'angolo giro 360 gradi per il numero dei lati degli angoli che dobbiamo andare a realizzare dalla nostra figura geometrica quindi 360 diviso 5 72 oppure 360 diviso 6 60 gradi proviamo a vedere abbiamo il nostro pentagono se noi usiamo lo stesso procedimento 6 prima era uscito un mezzo esagono scriviamo 360 diviso 6 60 diminuiamo un attimo la lunghezza del lato perché troppo lungo rischiamo di andare a sbattere in alto e quindi la figura si deforma vediamo se funziona ecco qui il nostro esagono come vedete è molto semplice e interessante lavorare con con le figure geometriche e con scratch è molto divertente